Buone stelle, da Radio.Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Oroscopo Una buona giornata amici dell'oroscopo, lasciamo spazio alle nostre stelle, le stelle di Radio.Zero per scoprire cosa ci riservano anche in questo giovedì, un buon ascolto. Amici della Riete, iniziamo da voi. Se avete deciso di conquistare il cuore di chi vi interessa con un atteggiamento franco e diretto, riuscirete a trovare un punto d'incontro. Venere, vostra amica, l'attenzione nei confronti di una persona speciale vi sorprenderà piacevolmente. Toro La luna in vergine favorevole a Urano vi sprona ad accantonare i ricordi negativi del passato e iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Ricchi di propositi, di lampi, di intuizioni, datevi da fare per vedere accadere le cose che fin qui avete sognato. Gemelli I disegni astrali odierni lasciano immaginare un'invidiabile capacità di perfezionare certi progetti e di coinvolgere le persone giuste per realizzarli. Saturno, complice dall'acquario, vi dà equilibrio, aiutandovi a evitare desideri grandiosi e campati in aria. Cancro Non confidate nell'apparenza, amici del cancro, e tenetevi alla larga se siete single da coloro che sapete già in partenza non avere alcuna affinità con voi. Giocherete oggi a carte scoperte su questioni che toccano tasti un po' dolorosi, poi però vi sentirete sollevati. Leone Saturno contro vi chiede di mettervi in testa che anche gli altri hanno bisogno di spazio e voi non potete sempre avere addosso l'attenzione di tutti. Avvertirete la necessità di proteggere le persone care ma anche che loro facciano altrettanto con voi. Vergine Con la luna ostile a Giove e propizia a Urano capirete che non ci sono solo insidie e complotti ma che avete anche amici fidati e chance di divertimento. Nettuno nemico però potrebbe annebbiare qualche vostra idea e consigliarvi il passo più lungo della gamba. Fate attenzione e rimanete sempre concentrati. Bilancia Grazie a Mercurio in bel trigono al segno vi rapporterete con facilità agli altri e terrete nella giusta considerazione i diversi punti di vista. Con morte avverso o dal cancro non fatevi prendere dall'impulsività. Prima di agire riflettete bene. Scorpione La quadratura di Saturno non promette bene oggi. Intoppi e rallentamenti in vista. Importante analizzare ogni situazione per dribblare eventuali ostacoli. In arrivo presto finalmente la possibilità di rimediare a una vecchia dimenticanza che era rimasta finora in sospeso. Sagittario Nettuno stile oggi vi rende pieni di insicurezze. Una soluzione è quella di frequentare di più persone che sanno apprezzare le vostre qualità e rassicurarvi. Intreccerete conoscenze affascinanti. Maldunque vi mancherà la serenità per fare una scelta. Capricorno La luna in vergine vi infonde coraggio. Vi spinge a credere a quella forza interiore che vi esorta a tentare, a provare a non smettere di lottare. Fare un tuffo nella natura verde rigogliosa però di questa primavera stimolerà pensieri cristallini. Acquario Grazie a Venere intrigono a Saturno più che tante parole. Belle promesse avete un forte bisogno di fatti concreti e di consolidare l'unione. Con Saturno che viaggia nel segno tenderete a regalarvi oggi un'altra giornata priva di contrasti e litigi. E finiamo anche in questo giovedì con gli amici dei pesci. Peccato che la luna di oggi opposta a Giove vorrà farvi trascorrere un giovedì con il cuore in tempesta. Puntate quindi sulle cose semplici e sincere. Coglierete ogni occasione si presenterà per insegnare i piccoli della vostra famiglia a sognare ad occhi aperti. E tutto quindi per oggi dall'oroscopo di Radio Punto Zero. Le nostre stelle vi aspettano domani. Intanto una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia